Indovinate? Oggi mi vedrete mangiare come sempre Iniziamo con una birretta per poi passare a questi antipasti Fritti in una frigitrice a parte Impanati con farina di riso e mais E tutto questo perché il menù che andiamo a proporre oggi è tutto senza glutine Compreso questo BLT Nome di questo panino E se dal menù dovessi scegliere un panino che contiene glutine Sappi che puoi richiederlo senza Avete capito dove mi trovo, vero? Ma ovviamente sono il buco al cittafiero a Martignacco Ora mi finisco con questi popcorn di pollo Altro che i popcorn del cinema Finiamo con questa cheesecake alle fragole Che disi di andare? Mandemo Tagga il tuo amico celiaco